Lei alla protesta questa mattina ha portato anche sua figlia, qual è la situazione per quello che la riguarda? La situazione è che oltre a tagliare posti di lavoro hanno tagliato lo stipendio, hanno tagliato 4.000 euro l'anno e certo perché Ciampiglioli è un dramma generale, poi anche tutte le persone che mandano a casa perché altro vogliamo la chiarezza, questi la chiarezza non ce la dicono, non è normale, siamo qui per protesta.